Il 2020 ha costretto ad annullare la tradizionale processione, ma non ha sgretolato la devozione dei pesaresi per San Terenzio. La città ha celebrato oggi il suo santo patrono, commemorando il martire Terenzio, primo vescovo di Pesaro, che qui morì il 24 settembre del 247. Oggi la cattedrale è stata il centro focale della ricorrenza, dalla santa messa del mattino dedicata alle vittime del coronavirus, alla funzione del tardo pomeriggio ufficiata dall'arcivescovo Monsignor Piero Coccia, con i fedeli ordinatamente adeguatisi agli ingressi contigentati. Chi non era in Duomo ha però potuto seguire la liturgia sui maxi schermi allestiti sul sagrato della cattedrale e altri hanno potuto farlo da casa seguendo la diretta trasmessa in esclusiva su Rossini TV. San Terenzio è da sempre anche giorno libero dal lavoro per gran parte delle attività pesaresi e in tanti ne hanno approfittato per visitare i musei della città aperti gratuitamente per l'occasione, come il Museo Nazionale Rossini e il Museo Diocesano, ma anche musei civici, Casa Rossini e tutte le strutture museali gestite dal comune. Il meteo ha sorriso anche ad una giornata da tempi supplementari della stagione estiva. Chi ha scelto la spiaggia metà mattinata ha assistito anche allo spettacolo di vele spiegate della tradizionale regata del patrono, giunta quest'anno alla trentesima edizione e organizzata dalla Lega Navale di Pesaro. Regata quest'anno ancora più sentita non solo per l'anniversario a cifra tonda, ma anche perché è arrivata dopo una stagione che ha cancellato la tradizionale regata sulla rotta dei trabaccoli. Quella tradizionalmente conosciuta come Pesaro Rovigno e che da qualche anno è stata modificata in Pesaro Pola. Era prevista maggio e la si voleva recuperare a settembre, ma l'obbligo dei tamponi per chi rientra dalla Croazia ha vivamente sconsigliato la disputa della manifestazione.